Con lo sguardo fiero Allora, tutti i piedi di positalità, tutti i piedi di parchina de Santis Arrabbiato con Maudelli perché non si voleva togliere la maglia Perché la partita è in un'unica del tempo de Santis Hai ragione, Alessandro, contro questi tedeschi Lansiamo il padre Con lo sguardo, siamo al 36, ma chi si aspetta la parità di così? No, perché? Sento, sento, Bruno, Bruno ferme, sento i coi di Berlino Vanno i coi di Tor, tutto è Berlino Via, 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 punto, l'altra parola Lantina Le ha sposato ormai da tempo il sistema di gioco fisso Il 4-2-3-1, non l'ha più cambiato, è cambiato Portogallo Lanza, rimanca cresa Tutte, tutte affrontate con questo schema Con che tira? La certa volta le considerano la occhietante Portaboll o Siqui Umaistabe E un nuovo etorretto осpirare il Tras 만 Moltene Grazie 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 Grazie